Mauro Tassotti, Mauro, 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 filimi, allora io ho una controversia con Mauro che dura da 25 anni, lo possiamo raccontare, ma vi sembra possibile che una squadra come il Milan, che mette in campo sempre dei grandi giocatori e tutti belli, possa avere in campo e sulla panchina come allenatore uno con un naso così! Gli ho offerto di tutto, il miglior chirurgo negli Stati Uniti d'America, il miglior chirurgo a Tokyo, il miglior chirurgo a Pechino, ma lui ha detto sono troppo affezionato alla mia mamma, me l'ha fatto così e così me lo tengo, io non ho ancora perso la speranza e ogni volta che lo vedo, nega, ogni volta che lo vedo glielo ricordo, però bisogna dire che con questo naso, ha avuto naso consigliarci la scelta dei nuovi giocatori. Grazie, grazie Mauro!